Lui, hai conosciuto Don Salvatore? E' certo che l'ho conosciuto, quello è un simpatico! Ma lei non guarda la chistra! Ho salvato, ma mica siete poco omofobo! Ma che omofobo? Lei ha pure i cani! E' chistra! E che è? Che c'erano i cani? E' ma basta, mandenemi, perché se non trovo vuole la chistra! Ma mandenemi che cosa? Ma chi sta mantenendo? Gnocchi, gnocchi, gnocchi! Amor! C'è anche il gnocchi? Che la gnocca sono io!